Bartoccini, fortinfissi Perugia, prova ad alzare l'asticella. Dopo le conferme di Angeloni, Cecchietto e Casillo e l'arrivo di Di Giulio in cabina di regia, è stato ufficializzato un autentico colpo di mercato. Per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato di A1 femminile di volley, sarà di fatti Serena Ortolani a completare la nuova diagonale offensiva delle magliette nere. Classe 1987, Ortolani vanta un lungo curriculum di successi nei vari club in cui ha militato ed in azzurro. Nella sua bacheca ci sono di fatti quattro scudetti, tre Champions League, due Coppa Italia, due Supercoppa italiane ed anche una Challenge Cup vinta la scorsa stagione con Monza, società con la quale non ha rinnovato il contratto dopo tre positive stagioni in cui era divenuta pure capitano del team Brianzolo. In maglia azzurra da ricordare l'argento mondiale due anni fa in Giappone e ben due ore europei tra le varie competizioni a cui ha partecipato. Ed ora l'avventa Perugia, dove l'opposto Ravennate spera di vivere una seconda giovinezza. Mi ha spinto a venire a Perugia il fatto che comunque è una società che ha ambizioni e quindi io sono una a cui piace crescere, piace vincere e penso che quest'anno sia un anno giusto per fare un salto di qualità per Bartoccini Perugia. Sapevo che comunque vogliono costruire un bel rostner per questo campionato e ho detto perché no farne parte. Sono veramente contenta, adesso vedo l'ora di conoscere la società, l'ambiente, la squadra, tutto quanto. Ovviamente dobbiamo avere un po' di pazienza perché non si sa ancora quando si ricomincerà, però sicuramente sono pronta. Un innesto che testimonia la volontà di inserire esperienze e qualità in un roster che lo scorso anno, da matricola in A1, è comunque rimasto in piena lotta per la salvezza sino alla sospensione definitiva del campionato che ha annullato ogni verdetto e la speranza è che il prossimo, per il sestetto perugino guidato da Fabio Bovari, possa essere il campionato della maturazione nella massima serie pallabolistica nazionale. Sì, eravamo neofiti del campionato di A1, dovevamo capire determinati meccanismi, dovevamo capire come costruirebbe una squadra, eravamo gli ultimi per la costruzione della squadra. Quest'anno siamo partiti con un netto anticipo, abbiamo potuto scegliere in un palcoscenico internazionale determinati giocatori in base ai nostri budget, naturalmente, e stiamo ancora lavorando per andare a completare la rosa. Oggi abbiamo un organico di 10 giocatori su 12 o 13 che chiuderemo e diciamo che siamo molto contenti di come sta andando il mercato. Dunque, la coppia in diagonale, formata da Ortolani e Di Julio, già collaudata nell'ultima annata a Monza, sarà ammirata dal pubblico del Palabarton e l'innesto dell'Azzurra, conferma proprio come Bartoccini, forte in fissi Perugia, stia cercando di assumere tratti internazionali e l'idea del presidente Antonio Bartoccini e della dirigenza perugina è quella di completare il roster con ulteriori innesti che possono essere funzionali in vista di una Serie A1 da protagonisti. Stiamo acquisendo credibilità a livello nazionale anche nei confronti di giocatrici di calibro importante, è comunque una giocatrice che ha fatto parte, è stata sempre nel giro della nazionale, è nel giro della nazionale, quindi è di grandissimo livello, di grandissima qualità, quindi per noi è stata la base, lei dove ripartire e fare il nuovo roster della stagione 2020-2021 insieme alla palleggiatrice Isabella Di Julio che era la diagonale con cui giocava l'anno scorso, quindi la diagonale palleggio opposto molto rodata che per noi è la base su cui inserire e fare gli innesti, ancora manca qualche giocatrice da chiudere, comunque è la base per fare l'innesto della prossima stagione.